Ho una squadra da panico, da panico, ma non strong, nel senso che mi sono impanicato per realizzarla, perché col mantra, e la notizia è questa, siamo passati ufficialmente al mantra, sì, ho detto va fatto, va fatto, va fatto, perché l'evoluzione, va fatto, va esplorato questo mondo fantacalcistico. E al mando, devi stare attento a tutto, no, alla profondità della rosa, a coprire tutti i reparti, i vari ruoli, la duttilità dei giocatori che devono avere magari, e esci, no, a fine asta, che stai fuori come un balcone, no, che la testa non sai dove devi andare a spattersi sulla scrivania o cosa. Ma ho tirato su una squadra, insieme al mio amico De Marco, ragazzi miei, perché io poi metto sempre il vice allenatore, cioè ci deve stare sempre chi poi mi va a gestire, io sono un po' una sorta di presidente, che poi piace a fare l'asta, ma nella gestione ci metto sempre il mio vice, no, l'allenatore. Fatelo anche voi, no, fatelo sempre con qualcuno in modo che si gestisce, si fa e si dice, eh, perché, perché poi è un lavoro, il fantacalc è veramente un lavoro. Se c'è una cosa che ho capito è questa, che è un lavoro, non è solo diverso, è un lavoro, tu ci devi stare lì a studiare, tu, io, io onestamente curo solo i piccoli dettagli, cioè mi faccio l'asta, stop, basta. Però mi sto appassionando, mi sto appassionando e adesso andiamo a vedere quello che sono riuscito a realizzare insieme al mio amico e comunque di grande supporto è stato ovviamente Fantalab, perché Fantalab, no, ti gestisce l'asta, ti aiuta con le varie strategie dei creator, Io ovviamente soffrisco sempre quella del mio papparino Carmi Special, ma Fantalab non è solo questo, ragazzi, Fantalab non è solo questo, Fantalab ormai è una roba che ha fatto uno step importante perché potete giocare anche a Fantalab Manager, ragazzi. Una combinazione di Football Manager e del Fantacalcio, quindi se amate queste due sfere dovete tuffarvi adesso, ovviamente vi rimando tutto in descrizione, poi ha trovato, o meglio ha ampliato il tutto buttandoci dentro i vari capopalestra, tra cui ci so anche io ragazzi, E quindi potete sfidarmi e potete sfidare anche glorie come Ferrara, Tony, ma anche calciatori come Giaccherini o creators come appunto Carmi Special, giornaliste, via, sì, c'è di tutto e di più. Ovviamente vi rimando anche un po' ai punti chiavi, come dicevo prima c'è la componente manageriale, quindi voi fate un po' la rosa, ma potete, no, in base al giocatore che magari inizialmente andate su qualche scommessina, poi il giocatore ingrana e lo potete rivendere, e quindi plus valenza, potete investire sulle varie infrastrutture, ragazzi ci so tantissimi campi, ovviamente voi magari inizialmente partirete col campetto di periferia e poi andate lì ad accrescere il tutto. Io da capopalestra c'ho un campo che è qualcosa di galattico, ragazzi, richiama molto Super Mario, è una roba bellissima, ragazzi, dovete assolutamente scaricare l'applicazione se non l'avete fatto e se l'avete fatto solo per gestire l'asta, provate Fanta Lab Manager, dategli davvero un'opportunità e inoltre io questa settimana ho sfidato Dexter, vedete che stadio che c'ha lui, ragazzi, tanta roba, gli ho dato 4 papine, ragazzi, gli ho dato 4 papine, ma non fatemi fare il gradasso perché sarà sicuramente l'unica vittoria magari, perché io parto sempre fuori, io c'ho sta roba che parto sempre strong, no, via e poi calo a picco, e quindi mi sono portato a casa la medaglia del capopalestra Dexter ed è quello che potete fare ovviamente anche voi, quindi c'ho un divertimento garantito e se picchiate di brutto dovete picchiare di brutto sul tasto like, fatelo adesso senza esitazioni o tentennamenti vari, picchiate sul tasto like perché vi posso portare anche la rosa che ho realizzato lì su Fanta Lab Manager, lo volete vedere o non la volete vedere? Così magari di settimana in settimana io vi porto anche i vari risultati, il capopalestra che affronto, però dovete picchiare di brutto sul tasto like, mi raccomando se volete condividete anche il video, tanto che ve frega, non vi costa una mazza signori miei, ma adesso partiamo perché sono andato un po' lungo, però ste robe andavano dette, ste robe andavano dette, allora come vi dicevo prima un paio di coordinate altrimenti non ci intendiamo, eravamo, o meglio siamo in 10, io e il mio vice e tanti giocatori in coppia ma queste non me li riguardano, 10 squadre sostanzialmente, come vi dicevo prima no? Non è come il fantacalcio normale che tu hai quella rosa, 7 difensori, 8 centrocampiste, 6 attaccanti o via dicendo, qui hai, devi portare a casa un minimo di 25 giocatori o un massimo di 30 e devi stare tu a regolarti sui vari ruoli da andare a coprire no? E quindi devi stare un po' attento, il tutto in un'asta random, completamente random, con un Lautaro Martinez che ti poteva uscire anche come ultimo no? Ti escono tutti i giocatori della Serie A random no? Un giocatore del Venezia, un giocatore del Cali, un giocatore del Poggi Bonzi, e poi ti devi comporre la tua squadra, quindi magari tu inizialmente ti puoi andare a prendere, come mi è capitato a me, mi è capitato, li prendi inizialmente solo attaccanti e poi mi sono risultato, oh sto prendendo solo attaccanti, quindi magari poi devi andare a lasciare andare qualcuno forte che non era uscito, è un po' una roba particolare, molto molto particolare, ma adesso andiamo alla livella rosa, se no sto qua solo a parlare e vi faccio una testa che non finisce mai. Ovviamente i portieri, tre portieri, ecco l'unico ruolo dove è un po' come il fantacalcio normale sui portieri, perché devi prenderne tre portieri, poi sugli altri puoi prendere anche tutti i difensori centrali, 25 giocatori, 25 difensori centrali, però ovviamente non riesci a coprire gli altri ruoli, sei automaticamente fatto, sei fuori, out completamente. Portieri, non lo so perché, ma se c'è un ruolo che io copro sempre bene è quello dei portieri. Rischio anche di bruciarmi tutti i crediti, però i portieri della mia squadra devono essere, non dico forti, ma sicuramente affidabili e sicuramente devono essere i portieri di una big della serie A. Qui addirittura ne ho presi due, o meglio, anche tre volendo, visto che c'è il portiere dell'avvento stitolare e c'è la riserva di Gregorio, che ho preso a 56 crediti, proprio nel finale. Ovviamente il tutto insieme, come dicevo prima, insieme al mio amico Beppe De Marco, ragazzi, che è un genio del fantacalcio, perché io mi devo mettere sempre... E via. Di Gregorio e Meret, quindi io ho due per te. Meret ho detto, me lo devo prendere perché quest'anno con Conte il Napoli non beccherà gol neanche a morire. Prima partita, tre gol subiti, va bene. Quindi sono contento che poi alla fine abbia preso anche Di Gregorio, spendendo troppo forse. Ah, una roba che non ho detto, perdonatemi, 500 crediti. Ecco, perché se non vi dico i crediti non avete neanche un po' la misura di quello che ho speso. 500 crediti a squadra. E quindi ho speso sostanzialmente 56, 53, 80, 88 per i portieri. Che è una cifra, secondo me, abbastanza altina. Non lo so perché. Io faccio sempre queste robe qua. Però sui portieri sono abbastanza coperte. Ovviamente poi si possono fare anche i scambi tra compagni. Quindi magari io do il portiere a uno e mi vado a coprire un ruolo che magari ho scoperto. Quindi è sempre un bene avere ruoli dove tu c'hai tanta carne al fuoco. Perché poi puoi comunque scambiarli. Andiamo avanti. Sui centrali, ragazzi, lascia un po' a desiderare. Innanzitutto il quantitativo, perché volendo giocare con la difesa a tre, io voglio giocare col 3-5-2 sostanzialmente. Quindi tre difensori centrali sono pochini. Se non sbaglio dopo vi faccio vedere, ho anche qualche braccetto. Qui invece ho messo solo i difensori centrali puri. Cioè Gabbia, Luperto, Macini, Mina che vedete possono solo giocare da difensori centrali. Ecco, spero che Gabbia giochi, perché Gabbia secondo me è un difensore che se andiamo a valutare il finale di stagione della scorsa annata affidabile, un difensore affidabile che comunque ti porta buoni voti, ma alla prima ha fatto giocare ciò che secondo me è un disastro. Spero che Gabbia abbia in qualche modo possibilità, però ha davanti anche Paolo Isci quest'anno, che è stato un investimento importante e quindi sicuramente giocherà. Devo andarla a prendere un altro difensore del Mina, secondo me, e magari scambiarlo con un amico. Vedremo, vedremo. Luperto invece il suo sete lo porta, un difensore, come dicevo prima, affidabile, no? Che gioca e Luperto praticamente alla difesa del Cagliari, che comunque dietro è una squadra abbastanza tosta. Mina, Mina mi piace, Mina secondo me è tosto, molto tosto. E poi, tra virgolette, il mio top player tra i difensori centrali è Mancini, che spero non prenda troppe ammunizioni e che quando va a staccare qualche bonus lo porti a casa. Questi sono i difensori centrali. Andiamo un po' sulle vie esterne. Attenzione perché non è finita. Nel ruolo di 3-5-2, no? Puoi utilizzare anche un braccetto nei tre dietro e quindi molto utili in questo senso Godfrey e Kolasinac. Kolasinac è un giocatore che ho voluto fortemente, l'ho pagato infatti 20 crediti. Però Kolasinac, io spero solo che stia bene, ecco. Perché se sta bene Kolasinac è veramente tosto. Inoltre, come vedete, è anche Duttile, può giocare sia difensore di sinistra, sia come esterno. Quindi in un 3-5-2 ti può giocare sia nei tre dietro e sia come esterno. Anche Godfrey, Godfrey, tanta roba. E mi aspetto che questo Godfrey ingrani all'Atalanta. Mi aspetto che dica la sua, anche se poi adesso l'Atalanta ha messo anche dentro Pellanova. Non è semplice, però magari vedere Godfrey da un lato e Pellanova da un lato, io non so cosa fa quest'anno l'Atalanta. Tanta roba. Candela, l'ho preso solo per il nome, perché ricorda Candela, giocatore forte. Motivazione sicuramente molto importante. Jane Ray del Lecce, comunque può dire sicuramente la sua. Cayode, preso a 2. Cayode, io mi aspetto che faccia questo salto, perché ci ha fatto vedere tante belle cose. Potrebbe fare il boom, io me lo auguro. Miranda del Bologna. Credo che sia abbastanza indicativo. Non ho Tavares, poi, della Lazio. Sono giocatori che vanno visti. Sono giocatori che sicuramente, se vogliamo, conosciamo anche poco. Ma sono giocatori che poi possono rappresentare delle sorprese. Perché poi il fantacalcio deve essere bravo anche a lavorare ad anticipo. Io forse ho esagerato un po' troppo in tal senso, onestamente. Iniziamo a salire, andiamo al centro campo, ragazzi miei. Dove troviamo Frendrup, Abigard, Duda e Tesman. MC, MC, MC è il primo Frendrup, sia esterno e sia mediano. Forse l'unico della categoria poter fare questo ruolo ibrido, no? Da esterno e da mediano. Non è solito, assolutamente. Forse anche per questo motivo ha un valore anche più altro Frendrup. Perché l'anno scorso, se non sbaglio, ha buttato dentro 5 assist e qualche gol. Quindi Frendrup è un gioiellino, secondo me. Nella mia ruosa è un gioiellino, è un giocatore su cui punterò tantissimo. Così come su Duda. Duda, ragazzi, già la prima assist. Duda è una certezza. Quindi magari anche qui non vedete dei nomi potenti. Assolutamente no. Ma dei nomi delle certezze. Perché secondo me Frendrup e Duda sono delle certezze. E poi c'è questo Tesman in seguito dall'Inter. Che magari potrà dire la sua al Venezia. E Abilgard. Che Abilgard? Mi piace il nome. Abilgard. E stop. Non è finita. Saliamo con C. I centrali, i trequartisti, volendo. E Winger. Mi sono accorto, componendo la rosa. Che nel ruolo di 3-5-2 ovviamente puoi mettere un esterno. E puoi mettere dall'altro lato un esterno o anche un'ala. E io dovevo coprirlo meglio il ruolo di ala onestamente. Invece ho solo banda. Che tra l'altro non è neanche uno che porti così tanti bonus. Almeno l'anno scorso, no? Ti aspetti qualche gol in più. Invece è uno che segna veramente raramente. E quindi non l'ho coperto bene. L'ho pagato solo due, assolutamente. Va bene, ci può stare nell'economia del mercato. Però dovevo secondo me andare a prendere anche uno forte. E non l'ho preso in quel ruolo, onestamente. Però ho preso Reinders in mezzo al campo. Lefe da questi, soprattutto da Reinders, è pagato 15. Ma aspetto bonus. Ma aspetto l'assist. E lui li ha. Ma ma aspetto anche gol. Perché Reinders spesso va. Spesso va. Tipo l'anno scorso secondo me poteva segnare tanti gol Reinders. Secondo me ne ha segnati meno di quelli che potenzialmente aveva a disposizione. Quest'anno mi aspetto che faccia quello step definitivo. Quindi Reinders secondo me è un ottimo acquisto. Lefe è da vedere. Ma ci credo tanto. Poi c'è l'affidabilità di Hernani. Il giocatore strutturato. Ma comunque no. È un titolare. E poi Sensi è il mio pupillo ragazzi. Sensi è un po' il candreva che mi so sempre portato negli anni. E Sensi al Monza è un giocatore che comunque la sua la può dire. Se ha un minimo di continuità. Se sta lì a lavorare non sotto i riflettori. Potrebbe e spero glielo avro di cuore mostrarci la sua classe che è infinita. Però è tutto da è tutto da vedere. E adesso andiamo lì davanti dove ripeto. Ne ho presi anche troppi di giocatori lì davanti. Ho preso quattro pc punte centrali. Sapete che le punte centrali possono giocare in pochi moduli. O meglio giocano in tutti i moduli. Ma due in pochi moduli. Perché tipo nel 3-4-3 ce ne gioca solo una. E il mantra è così. Il mantra è sta roba qua. E andiamoli a vedere signori miei. Eccoli qua. Secondo me il reparto d'attacco non è male. Magari non è nulla di eccezionale. Ma non è male. Uno perché come potete vedere abbiamo i due attaccanti dell'Inter. E secondo me Terremi la sua. La può dire come in questa in questa annata qua. E poi c'è Turand. Che già alla prima mi ha fatto due bombette. E l'ho pagato 109. Non è che lo abbia pagato così clamorosamente caro. La metà quasi di Lautaro che è andato via per 201. E io me lo auro da interista che Lautaro replichi la scorsa stagione. Ma non lo so. Ma non lo so. Quindi secondo me pagato veramente il giusto Turand. 109. Taremi 20. E quindi ho i due attaccanti dell'Inter. Credo che qualche gol lo macinino. Adams del Torino. Io mi aspetto che questo Adams. L'ho anche intravisto nella prima. Possa ingranare. E qualche bonus assolutamente. Qualche bonus. L'attaccante devi segnare. Non male. Anche se lì alla Toro c'è Zapata. Che clamoroso ragazzi. Che di uno step superiore. Mi sono preso Chiesa. Perché se rimane in Italia. Non lo so. Andasse alla Roma Chiesa. Sarebbe comunque un colpaccio prenderlo a 21. Come potete un po' vedere. Se rimane invece alla Juventus. Non lo so che succede. Se dovesse andare all'estero. Invece ovviamente mi ribecco i 21 credit che ho speso. In tutto ciò. L'altro attaccante. Giocando nel 3-5-2. Ed è la formazione commessa alla prima giornata. Turam Castellanos. Castellanos ragazzi. Sar preso in positivo. L'ho pagato 44. L'ha voluto fortemente il mio vice. Io non li avrei spesi sti soldi. Devo dir la verità. Eppure. Adesso non sono così. Dispiaciuto. Nella maniera più assoluta. Perché Castellanos comunque senza immobile. Pensandoci bene lì davanti. È vero che loro hanno anche via la Lazio. Però Castellanos secondo me quest'anno può dire assolutamente la sua. L'abbiamo visto già la prima giornata. Tanta roba. Tanta tanta roba. E poi c'è Giuric del Monza. Ha pagato 13 crediti. Ci può stare. Perché se Giuric gioca qualche gollo fa. Non è la mia punta di riferimento. Però è un altro giocatore che comunque non può dispiacere. E quindi se andiamo a vedere questa è la mia rosa. Ripeto considerate che sono 10 le squadre. Non 8. Non è clamorosamente forte. Ma non è clamorosamente scherzi. Secondo me è la classica rosa da metà classifica. Poi magari se in grano qualche giocatore. Che al momento no. Magari ripeto non gli dai molti crediti. Come Tesman. Come Candela. Ma gli stessi Godfrey. E soprattutto Cajode. Se tutta sta gente qua. O Castellanos che ti fa la stagione da 15 gol. Poi va visto. Perché Fanta Calcio è una cosa guarda all'inizio anno. La squadra è una cosa guarda alla fine. Cambia il mondo. Fatto sta che alla prima. Ragazzi. La mia squadra è andata fortissima. Sono stato il fantallenatore. Io mi considero il più presidente della squadra. Il fantallenatore è il mio vice Beppe. Non Marotta. Beppe De Marco. Non è andata male alla prima. Con Castellanos. Che si è portato a casa 10 bombozze. Toram 13 e mezzo. Duda con l'assist è arrivata a 8. Di Gregorio con l'imbattibilità. Come si dice? No l'imbattibilità. Con il clean sheet 7. E la mia squadretta si è lavorato Sonso Flacco. Che viene da Sonso Fan. Che sto guardando proprio in questo momento. Ragazzi. Una serie. Tanta 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 roba. Ma non divaghiamo. E quindi. Sono in testa. Dopo una giornata sono in testa. Quindi non solo ho dato 4 bomba... 4 colpetti a Dexter. A Fantalab Manager. Anche qui. Regna sovrano F. Cineschi ragazzi. In testa. Attenzione però allievi di Dott. L'ho vista la squadra allievi di Tott. Scusate. Tanta tanta roba. Chi sapete chi è Tott? Tott è il dio della scrittura sostanzialmente. Veniva riconosciuto come tale. Quindi stiamo molto attenti. Però intanto. Alla prima ragazzi. Io li ho messi tutti sotto. Faccio il gradasso. Perché so che. Lo posso fare solo adesso. E va bene così. Questa è la mia squadra. Sono andato forse troppo troppo lungo. Perdonatemi ragazzi. Ma di roba da dire ce n'era. Votete sapere voi. Dove mi posso piazzare con questa squadra qua. Se è una metà classifica. Almeno la porta a casa. Signori miei. Noi ci becchiamo come dicevo prima. Picchiate forte sul tasto like. Perché vi posso portare altri contenuti a tema. Se volete contenuti a tema. Boom boom boom. Picchiate forte sul tasto like. Un grande abbraccio. Aneschio.